Fini primo tempo, quarto di finale, training cup, 8 contro 8, Smimmo team, compagnia con Smimmo, conto il Leicester 3 a 0, Enzo come è stato questa partita? Ottima partita, stiamo giocando bene, facciamo un girare palla, teniamo bene il campo fisicamente, ancora leggiamo fortunatamente, dobbiamo continuare così, continuare a segnare, mai fermarci. Va bene, compagni, vuoi salutare qualcuno? Tutta la squadra, mi ha voglia mia figlia. Complimenti, andiamo un po' in compagnia con qualcuno del Leicester. Siamo sempre uno mancante stanno. Sì, perché Lugamese, Nicola, sta giocando ma sta distante. Buonasera, a sacco. Buonasera, di nuovo. 3 a 0 per lo Smimmo team, cosa sta mancando nella tua squadra oggi? La fiducia in noi stessi, il fatto che dobbiamo stare un po' più vicini, siamo un po' distanti, siamo isolati, attacco, difesa, centrocampo, purtroppo c'è una sola persona che sta giostrando e non riesce ad avere un appoggio. Per cui dobbiamo cercare di aiutarci uno con l'altro. Va bene, bocca al lupo per il secondo tempo e in bocca al lupo. Siamo nel post partita del quarto di finale tra Leicester e Smimmo team, partita terminata 7 a 4 per la Smimmo team, siamo qui con l'NVP del match 7 a 2, scusa. Non umiliamo il nostro partito, perciò. Partiamo, prima di tutto, complimenti per la vittoria. Grazie. Grande partita per la squadra, un Sergio Stanziano oggi apporta... Insuperabile. Non avevo idea di Sergio Stanziano in porta così. Grandissima. Comunque abbiamo fatto un ottimo partito, abbiamo giocato la squadra veramente stasera, abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo retto anche bene fisicamente. Il portiere avversario ci ha negato qualche gol quasi fatto, ma comunque va bene così. Smimmo adesso è in semifinale, probabilmente con tutta la vittoria. Sicuramente, sempre. Sarà dura sicuramente, in semifinale non è mai una partita segre. Enzo, una dedica finale? Sempre a tutta la squadra, mia moglie e mia figlia. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.